Bene, dopo la figuraccia di merda che abbiamo fatto con la Slovacchia, i nostri giocatori sono rientrati finalmente a casa, erano vestiti come attori hollywoodiani, io li avrei fatti ritornare su un trattore di merda per esempio. Diciamo che invece di stare qua a piangere perché ormai il pallone è quello che è, il calcio è quello che è, penso che i giocatori neanche ce ne erano, quindi noi stiamo a girare su vari Ambrosini, Cassano, Totte, erano anche giocatori che neanche ci volevano andare probabilmente, io la vedrei diversamente, però penso che è meglio che stiamo anche noi a farci le ferie perché Lippi dice che è giusto farsi le ferie, ce le facciamo pure noi, andate a cagare tutti i guanti e a pallone ci giochiamo noi e ci divertiamo al mare oppure a calcetto. Prendiamo la leggera gente perché tanto alla fine che ci arrabbiamo non serve a niente, il momento è quello che è, speriamo che un giorno il calcio diventerà un'altra cosa, come i tempi di Virdisi per esempio, i giocatori umili, lo stesso Palanga, giocatori di una volta che erano senza tante storie, senza tanti diavoli per la testa, erano abituati nella sofferenza, erano comunque giocatori di un altro livello. Adesso questi qua sembrano attori di Hollywood, tutti vestiti perfettamente, sembravano venire da chissà dove, a mio parere erano persone che era meglio che venivano con un bel secchio di merda sulla testa. Arrivederci.